Esiste tuttavia un'arte particolare che riassome i cieli, colori, suoni e spettacolo in un'unica espressione. La pirotecnica sovrentina è l'unica di presentarvi uno spettacolo alpino musicale in cui fuochi e musica si miranno in un coluncio perfetto, di cui godere con lo sguardo rivolto verso il cielo. Si ringrazia il sindaco e la giunta lunare, il parroco, il comitato feste e le forze del pubblico. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.